E' finita, è finita, è finita, è finita, l'Inter è campione d'Italia 2023-2024, game over per tutte le altre, sempre se qualcun'altra c'è stata in tutto questo percorso. L'Inter è con pieno merito, diciamolo, perché noi in Italia facciamo sempre fatica a dare i meriti a chi merita, l'Inter è con pieno merito campione d'Italia 2023-2024 e lo fa contro il Milan, lo fa nel derby, lo fa nella gara più importante dell'anno dimostrando di essere questa squadra qui, la squadra dominatrice della stagione in corsa. Simone Inzaghi fa quanto fatto da Spalletti lo scorso anno e quindi si aggiudica il primo campionato, il primo scudetto della sua carriera da allenatore, bravo, 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 Simone Inzaghi è stato l'artefice, il grande protagonista di un Inter che oggi domina anche con il Milan nel derby. Prima di iniziare vi lascio qui sotto in descrizione il link per andare sulla pagina Instagram di Sportium Lab, vi darò la possibilità di vincere biglietti, Milan-Inter Juve, Roma-Lazio-Napoli, mi raccomando fateci un salto, perché potreste vincere questi biglietti sia questa stagione la stagione prossima, mi raccomando fateci un salto, link qui sotto in descrizione. Detto questo ragazzi, Milan-Inter, allora, 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 complimenti innanzitutto all'Inter, grandi, 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 enormi, abnormi, giganteschi, superlativi, complimenti all'Inter. Come sempre, quando qualcuno vince, non c'è mai, da parte degli altri, la possibilità di dire cazzo ha meritato, quindi due anni fa si diceva che il Milan era stato semplicemente miracolato, il Leicester d'Italia, l'anno scorso il Napoli si diceva che gli andava tutto bene, quest'anno dell'Inter si è detto ad ogni partita, ma rotta l'Ig, l'hanno rubato. Ragazzi, semplicemente io, che di sconfitte ne ho viste tante, essendo romanista e che perdo ogni anno praticamente, riconosco sempre i meriti delle squadre che meritano e come due anni fa il Milan ha meritato di essere stato lì, ha attaccato al culo all'Inter per tutto l'anno, pronto al sorpasso e l'anno scorso il Napoli ha dominato un campionato, quest'anno l'Inter ha fatto lo stesso, quest'anno l'Inter è stato l'esempio della progettualità, ha dimostrato quanto con un progetto e un progetto fatto bene si può arrivare a dominare uno scudetto e la cosa bella per l'Inter ne è la dimostrazione oggi, perché il gol del vantaggio, che parte da un pallone di Pavard, lo trasforma a Cerbi. A Cerbi ragazzi, a Cerbi è un giocatore che l'Inter ha preso tra i mugugni generali, perché alla Lazio non lo voleva più nessuno, perché aveva rotto con i tifosi, perché era vecchio, perché aveva sorriso quando si era fatto un autogol contro il Milan e allora forse ti fa Milan, allora perché doveva prendere un infame di merda? Così lo chiamavano e oggi a Cerbi, poi ne arriverà un altro, ma oggi a Cerbi segna il gol al scudetto, oggi a Cerbi dà lo scudetto in mano all'Inter segnando il gol del vantaggio dopo 18 minuti, un gol meritato, che porta poi a una vittoria meritata, ma il gol di a Cerbi è proprio l'esempio lampante, ed è giusto che abbia segnato a Cerbi, della progettualità della stagione dell'Inter di quest'anno. Io l'ho ripetuto e l'ho ripetuto e l'ho ripetuto a tutti i video dell'anno dell'Inter, perché è giusto così, perché è giusta quella roba lì, perché l'Inter quest'anno è stata progettualità, progettualità. Domani poi faremo le pagelle. Zommer, Zommer ragazzi, è uno che è arrivato al posto di Onana, su cui nessuno avrebbe puntato un eurino, e Zommer ha fatto, ha collegato più clean sheet che gol presi praticamente, Zommer. Pavard, che oggi fa l'assist del gol del vantaggio, è un difensore indubbiamente fortissimo, che è stato pagato anche abbastanza, ma arriva come sostituto di Skriniar, e era scontato che fosse all'altezza? Io non credo. A Cerbi, ragazzi, a Cerbi, a Cerbi è uno dei volti di un Inter che non ha puntato sulle spese. Poi l'Inter ha speso, sì ha speso, perché alcuni giocatori sono costati, ma l'Inter non ha puntato sulle spese. L'Inter ha puntato sul progetto, sul progetto. A Cerbi ne è un esempio, Darmian, Darmian ne è un altro esempio. Darmian è un giocatore che l'Inter ha riportato in Italia, da quanto ho capito, perché già si sapeva prima, dandolo al Parma, si è fatto sei mesi al Parma e poi è arrivato all'Inter già pronto, e da quando è arrivato all'Inter nessuno ci avrebbe puntato un euro. Che giochi da braccetto, come oggi, che giochi da esterno, anzi oggi giocavate esterno a tutta fascia, che giochi da esterno a tutta fascia, che giochi da braccetto, perché ha giocato da braccetto molto spesso, è sempre perfetto, diligente, educato, disciplinato. Cioè, quello che Inzavi dice di fare a Darmian, Darmian fa. E questo è l'esempio di come l'Inter è arrivata a vincere un tricolore supermeritato. Bastoni, Di Marco, sono due giocatori che sono usciti dalle giovanili dell'Inter. Bastoni non è uscito dalle giovanili, è vero, Bastoni lo hanno preso molto giovane, dall'Atalanta spendendo anche qualcosina. Però Bastoni è lì da sempre. Bastoni è lì da quando era un bambino, l'Inter ci ha puntato da quando era un ragazzino, e nessuno avrebbe pensato che Bastoni sarebbe arrivato ad essere questo calciatore. Di Marco ti fa Inter da quando è un bambino. Cioè, questa è anche la dimostrazione di quanto ci sia stata una progettualità lungimirante. Cianoglu è arrivato proprio dal Milan, tra l'altro, a parametro zero. A parametro zero. E oggi gioca mediano. Ma Cianoglu fa tutto. In quel centrocampo ha fatto tutto. Ha fatto la mezzala da inserimento, quindi trequartista, ha fatto la mezzala di contenimento, ha fatto il mediano, adesso fa il play. Cioè, fa tutto. Mkhitaryan è un altro che è stato preso da due spicci, forse addirittura a parametro zero dalla Roma. Perché la Roma non ci voleva più puntare. Lui ha detto, l'Inter ha detto, io voglio puntare su di te. Lui è andato alla Roma e ha detto, guarda, se tu non vuoi più puntare su di me, l'Inter vuole puntare su di me, voglio andare all'Inter. È andato all'Inter. È un giocatore, ragazzi, è infermabile. È insostituibile. Quest'anno Frattesi ha fatto tanta fatica, ha già dato tanta, ha fatto anche diversi gol, mi pare sei gol, quattro assist, una cosa del genere. Ma nonostante ciò, quest'anno Frattesi non ha manco fatto così tante presenze. Perché davanti c'è un mostro. Perché Mkhitaryan quest'anno è stato un mostro. È stato un mostro. Barella è uno dei pochi sul quale l'Inter ha dovuto spendere soldi. Eppure, ragazzi, vale dieci volte quanto l'Inter ha speso. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, ragazzi, è arrivato dall'Argentina. Cioè tu dovevi avere un progetto per puntare su Lautaro Martinez. E l'Inter aveva un progetto per puntare su Lautaro Martinez. Un altro esempio è Marcus Turam. Il tuo zero lo fa Marcus Turam. Ragazzi, Marcus Turam arriva, poi lo dico io che sono romanista, quindi figuriamoci, arriva a parametro zero a giugno. È vero che comunque lui era già forte. Già si sapeva se sarebbe stato forte e tutto quanto. Però arriva a parametro zero dal Borussia Munchengladbach a giugno. Perfetto. Quando l'Inter l'ha preso io ho detto, rega, questo è pronto per fare il titolare. Qualcuno ha detto, no, no, dobbiamo riprendere Lukaku, prenderemo Lukaku. Lukaku, Lukaku ha detto, io, c'è, Lukaku si stava accordando, ne ha detto un cazzo, un po' ne ha detto, manca risposta al telefono se proprio dobbiamo dire. Lukaku si stava accordando con la Juventus. Quando è saltata fuori questa cosa, l'Inter si è tirata indietro. E l'Inter non si è tirata indietro piangendo, disperata. E quando Lukaku ha chiesto scusa, non è che l'Inter l'abbia preso. L'Inter ha dimostrato di avere anche una forte morale. Una forte morale. L'Inter ha dimostrato di avere una forte morale, una fortissima morale. La morale che ha dimostrato di avere l'Inter parte da quella scelta lì di dire, noi l'attaccante di Tolero l'abbiamo già preso. Ok, Lukaku non viene perché ha fatto la merda, non lo riscattiamo, non lo teniamo, non lo ricompriamo. Va bene così. Va bene così. Perché? Perché Lukaku ha fatto lo schifo e noi puntiamo su Turam. Perché noi l'attaccante ce l'abbiamo già. E non è solo quello, ragazzi. Perché quest'anno De Frai quando ha giocato ha sempre fatto bene. Perché Carlos Augusto ha giocato da braccetto, ha giocato da esterno a tutta fascia. Ha sempre reso, addirittura Carlos Augusto ha reso meglio che quando ci ha giocato Di Marco da braccetto. Bissek sta giocando poco, ha giocato poco, ha giocato poco anche Buchenan. Lo dico sempre, Bissek è arrivato a giugno. Buchenan a gennaio, magari un po' più giustificato quest'ultimo. Però quando hanno giocato, Bissek soprattutto, perché Buchenan l'abbiamo visto poco, ha fatto la differenza, anche in fase offensiva. Dunfriss, ragazzi, l'Inter è talmente un sistema perfetto che può permettersi spesso di lasciare fuori Dunfriss. Fra tesi ne abbiamo già parlato. Davanti ai Sanchez e Arnautovic che quando sei partito sembrava che avessi una panchina d'oro. Quando sei arrivato un po' meno, però comunque hanno fatto molto bene. Spesso sono risultati decisivi, sono spesso risultati importanti, impattanti, fondamentali. Cioè queste sono cose che io non dimentico, queste sono cose che io non dimentico personalmente. Anzi le sottolineo nel bilancio di una stagione perfetta. Perché l'Inter fa una stagione praticamente perfetta. Certo, dispiace, penso, ma a loro, poi a me mi frega un cazzo. Per le altre coppe, cioè che l'Inter poteva fare meglio in Coppa Italia, ma vabbè chi se ne frega. Tattoni ha vinte diverse e quest'anno l'importante era la seconda stella, che arriva tra l'altro proprio contro il Milan. E l'Inter poteva fare sicuramente meglio in Champions League perché uscire contro l'Atletico Madrid, che poi esce tra l'altro contro il Borussia Dortmund, quindi oltre il danno la beffa, dimostra di come l'Inter potesse effettivamente far fuori Colcioneros. Gli è mancato quel qualcosina in più, dal mio punto di vista. Detto questo, poi mi sono dimenticato anche di parlarvi di Aslani, che oggi non fa il titolare, ma quando Aslani ha fatto il titolare, quando Aslani ha fatto il titolare, ha sempre fatto la differenza. Ha sempre giganteggiato in un centrocampo in cui tu prendi il posto di Akan Cialanoglu, quindi è quasi impossibile giganteggiare, è quasi impossibile. Eppure l'Inter con Aslani lo ha fatto. Dico che, vabbè al netto del gol di Tomahoriga, dico che mi aspettavo un po' di più da parte del Milan. Cioè, mi aspettavo un Milan un po' più arrembante, mi aspettavo un Milan un po' più voglioso, mi aspettavo un Milan che ci avesse un po' più di cattiveria, di cazzima. Cioè, effettivamente il giallo lo prendete a Hernandez, poi basta, se non sbaglio. Comunque, per gran parte della gara, mo che vado un po' a mente, il Milan di giallo non ne prende. Ma tu comunque gli stai giocando uno scudetto. Cioè, tu stai dando lo scudetto. Non è che te l'ho otto il Milan, non se lo sta già, non se l'ha mai giocato lo scudetto realisticamente durante tutto l'anno. Però tu stai dando uno scudetto in mano all'Inter, ok? L'Inter sta facendo lo scudetto nel derby, te lo sta alzando in faccia. Tu ce ne hai 19 e loro ce ne hanno 19. Tu devi entrare con una cattiveria, con una voglia di performare, di fare male, di distruggerli, che deve essere enorme. E questo, dal mio punto di vista, il Milan non lo fa. Quindi se fossi un tifoso del Milan sarei particolarmente incazzato, perché tu oggi dovevi lessarli tutti. Tu oggi non dovevi perdere. A te oggi dovevi dare il 2000 per mille. E non l'hai dato. Dal mio punto di vista non l'hai dato. Potevi dare sicuramente di più. E l'Inter vince il derby e vince il ventesimo scudetto. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio. Complimenti all'Inter. Buon ciao a l'Alene come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.